benvenuti cari amici anche oggi in un nuovo video oggi come promesso il 13 dicembre 2019 ci sarà l'estrazione di uno dei vostri commenti per vedere appunto chi sarà il vincitore o la vincitrice dello speciale 15.000 iscritti mi trovo già sulla pagina youtube random comment picker oggi 13 gennaio 2020 e tra non molto vedremo chi sarà il vincitore risposto un attimo sul mio canale eccoci qui e cerco il video eccolo qui lo apro e come potete vedere sulla sinistra un regalo per voi giveaway speciale 15.000 iscritti non mi resta che copiare link e inserirlo in questo spazio perfetto come potete vedere alla sinistra spunta proprio il video un regalo per uno di voi chi sarà il vincitore lo scopriremo subito il vincitore è beauty stefani che scrive complimenti per il traguardo bellissimo anche il pensiero stefani sei tu la vincitrice di questo giveaway ti invito a contattarmi sotto nella info box del video lascerò i miei contatti email o la pagina instagram dove tu appunto mi puoi contattare per farti avere appunto il regalo io do una settimana di tempo a questa vincitrice per potermi contattare se non mi contatterai io tra una settimana sarò libera di rifare l'estrazione e dare la possibilità a qualcun altro di vincere questo premio auguri allora nuovamente al canale beauty stefanis perché appunto come ho detto prima sei tu la vincitrice contattami e grazie a tutti quelli che hanno partecipato che non hanno vinto comunque non vi preoccupate io spesso faccio giveaway quindi per voi ci saranno altre possibilità vi aspetto presto un nuovo video e da di tutto e di più è tutto e ci vediamo presto ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti